La discriminazione territoriale ha una connotazione chiara. Adesso qualcuno poi, ho visto per sminuire, qualcuno chiama ironia, qualcun altro, sfottò. Per me la discriminazione territoriale è discriminazione territoriale. E sfottò alcune battute di spirito che a volte si scambiano i tifosi Roma e Lazio o Verona-Napoli. Noi abbiamo la capacità, lo sappiamo tutti, non dobbiamo far finta di dare una connotazione diversa a quella che è invece una vera e propria discriminazione. Per noi la discriminazione territoriale esiste, sappiamo benissimo che cosa intendiamo per discriminazione territoriale. E devo dire che lo sa benissimo Rocchi che ha sospeso, ha interrotto la gara, ha fatto benissimo perché è previsto dalla procedura. E questo deve essere il modello applicabile in ogni gara, con grande attenzione perché è il rischio reale che al secondo richiamo si va negli spogliatoi e finisce la giostra se l'addetto alla sicurezza lo permette.